Venerdì di sangue per le strade della capitale. La era un centauro di 73 anni che guidava una moto di grossa cilindrata. Sono state le pattuglie del terzo gruppo nomentano della polizia locale ad intervenire intorno alle 16 e 30 del 19 maggio sul viadotto Giovanni Grunchi di Via della Bufalotta. Ha perso la vita un uomo 73 anni alla guida di una moto BMW che, per cause in corso accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è deceduto subito dopo essere stato trasportato in ospedale. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento risulta coinvolto un solo veicolo. Per consentire i soccorsi è stato chiuso il viadotto Grunchi da Via delle Vigne Nuove, in direzione Bufalotta.